Nel 2017 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato nella provincia di Reggio Calabria 48 sequestri e confiscato 118.816 articoli falsi. Lo rivela la ricerca realizzata dalla Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico. I risultati della ricerca sono stati presentati a Reggio Calabria da Loredana Gulino, direttore generale lotta alla contraffazione UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, e da Massimiliano Valery, direttore generale del Censis, alla presenza di Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio. Reggio, viene evidenziato nella ricerca, si colloca al 24esimo posto in Italia per quantità di pezzi sequestrati, ma è il maggiore polo di attrazione della fake nella regione, visto che il 69,4% delle merci sequestrate in Calabria nell'ultimo anno è stato intercettato proprio nel territorio reggino. Nel 2017 i sequestri hanno riguardato soprattutto accessori, il 35,4%. Al secondo posto i giocattoli, con il 29,2%, segue l'abbigliamento con il 12,5%. Infine le calzature con l'8,3%, provenienti soprattutto dalla Cina. I giocattoli sequestrati nel territorio corrispondono al 97,4% di tutti i prodotti contraffatti confiscati nell'ultimo anno. C'è stato un boom di giocattoli falsi nel periodo 2008-2017, pesavano solo il 4,5% del totale delle merci sequestrate. Negli ultimi dieci anni, secondo quanto emerge dai dati, i pezzi falsi sequestrati sono stati complessivamente più di 11,5 milioni, con un calo considerevole a partire dal 2012. Si passa dai 3,5 milioni di pezzi sequestrati nel 2011 ai 119 mila nel 2017. Da dimensioni eclatanti e allarmanti, il fenomeno della contraffazione si è ridotto al mercato di smercio locale. Ciò è avvenuto per due ragioni, dicono gli esperti. Innanzitutto per l'interruzione della rotta Cina-Porto di Gioia Tauro, che vedeva coinvolti anche esponenti delle endrine della provincia, grazie a brillanti operazioni di contrasto condotte dalle forze dell'ordine. E poi per la specializzazione del porto nel trashipment, cioè il trasbordo dei carichi su navi dirette verso stati esteri, senza sdoganamento in Italia. Oggi il mercato della contraffazione si lega alla rete molecolare dell'ambulantato, il fenomeno radicato nell'abusivismo commerciale low cost e alla vulnerabilità dell'economia locale.